Via libera della giunta municipale di Ponte Cagnano-Faiano al programma di sviluppo urbanistico territoriale della fascia costiera Salerno-Agropoli. L'esecutivo, seguendo l'esempio degli altri comuni interessati, ha preso atto del piano presentato dai distretti turistici Sele-Picentini, Consorzio Lidi di Pestum e Riviera Salernitana, dando mandato all'amministrazione capofilla di Salerno di trasmettere le delibere di adozione alla regione Campania e di attivare le procedure per avviare i progetti immaginati. Il programma in questione, che si pone l'obiettivo di realizzare un piano di sviluppo infrastrutturale omogeneo su tutto il territorio litorale attraverso un partenariato pubblico-privato, coinvolge sei comuni per un totale di circa 295 mila abitanti.